Così come la giostra del Saracino, anche l'attività dell'Associazione Sbandieratori di Arezzo torna a svolgersi con regolarità e continuità e il gruppo protagonista in occasione di prestigiose manifestazioni in Italia e all'estero. Dopo la partecipazione al Carnevale della cittadina francese di Denas, gli sbandieratori hanno preso parte alla spedizione a retina all'isola d'Elba, in memoria del compositore Pietri. Merita una menzione particolare anche la trasferta di Sarajevo, ospiti dell'ambasciata italiana in Bosnia. L'estate del gruppo è proseguita poi con le ormai tradizionali trasferte in terra francese e spagnola. A Gap per il Festival Cultura di Musique de Monde, a Tortosa per la festa del René Sement e a Medina del Campo per la Semana Renacentista. La ciliegina sulla torta di un'annata assolutamente eccellente è rappresentata dalla prossima partecipazione all'evento Mia Cara, organizzato in Brasile. Il gruppo tornerà in Sud America a distanza di 31 anni dall'ultima volta, quando fu impegnato nello storico tour che lo portò anche in Argentina, Uruguay e Cile. E lo farà onorato di rappresentare Arezzo nel mondo, mentre l'alta metà del gruppo sarà chiamata come di consueto ad alzare il sipario sulla giostra del Saracino di Settembre.